Secondo me quella sedia lì va spostata, anche secondo me quella sedia lì va spostata, facile a dirlo quando l'ha detto gli altri. Se per questo sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Da una approfondita analisi storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 chili. Non sono d'accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 chili. Il 3% dai 6 ai 7 chili. Il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiate. Secondo me per spostarla ci vorrebbe qualcuno che la prendesse delicatamente per la spagliere e la mettesse da un'altra parte. Eccesso di garantismo. dal punto in cui siamo è assolutamente necessario prenderla in qualsiasi modo. Anche a calci. A calci. Ma questo è profondamente antidemocratico e anticostituzionale. Se è così cambiamo la Costituzione. Non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Nel frattempo propongo di indire un referendum. Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora non c'è scelta. Elezioni anticipate. No. Le elezioni oggi no. Sarebbe troppo grave per il paese. Forse domani. Rimane il problema urgente della sede da spostare. Su questo sono d'accordo. Può essere un punto d'incontro. Parliamone. 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 Par